Da sede riservata agli artigiani a sede politica per simpatizzanti di estrema sinistra, a sollevare il caso sul cambio di gestione definito poco chiaro del Circolo Arci Artigiana di San Lazzaro a Fano, è stato un ex socio Antonio De Sena che lamentava di essere stato ingiustamente escluso. Come ha spiegato alla nostra redazione, tempo fa avrebbero chiesto a tutti i soci di riconsegnare le tessere con la restituzione delle quote annunciando la chiusura del Circolo di proprietà del Comune. In realtà così non è stato ed anzi è stato nominato un nuovo direttivo e sempre secondo De Sena la sede non sarebbe nemmeno più a partitica come richiesto invece dallo Statuto. Una vicenda questa che domani finirà anche in consiglio comunale grazie ad un'interrogazione presentata da Alberto Santorelli ma oggi a replicare è la nuova presidente Barbara Falcinelli. Innanzitutto questo attacco ci coglie molto di sorpresa dal momento che si contesta un cambio di gestione avvenuto ormai due anni fa, peraltro votato all'unanimità da un'assemblea in cui il signor De Sena era presente e avvallato e controllato nella propria prassi dall'assessore al bilancio di allora, ovvero il signor Alberto Santorelli. Pertanto che ora da consigliere comunale venga a chiedere delucidazioni in merito a questo cambio di gestione, insomma è una cosa che come minimo ci suona già abbastanza strana. Noi abbiamo ereditato tra virgolette questo circolo ed era un circolo in forte decadenza con delle criticità molto forti, con il lavoro, con l'impegno, con la dedizione gratuita dei soci vecchi e nuovi siamo riusciti a riportare il buon nome di questo circolo, il buon nome dell'artigiana. Abbiamo trovato 67 tessere, siamo arrivati a 330 iscritti e per cui insomma già questo è un dato che parla molto chiaro rispetto a quello che è appunto il buon nome del circolo. È diventato un punto di riferimento per il quartiere, è tornato ad essere frequentato dalle famiglie, dai bambini, cosa che fino a due anni fa era tutto sommato difficile visto appunto quello che poteva essere l'ambiente ed è un riferimento anche per la città perché comunque siamo il circolo Arci con il maggior numero di soci a Sufano e con il maggior numero di iniziative culturali. È stato detto però che in questa sede adesso si fa soltanto un'attività politica, è così? Assolutamente no, non esiste attività politica nella misura in cui non esiste l'Arci, nel senso che l'Arci è un'associazione nazionale che si occupa sì di essere progressista e antifascista, questo è chiaro, è negli intenti dell'associazione appunto. Noi non facciamo altro che riprendere quelle che sono le campagne nazionali e riproporle ai nostri soci nella misura a loro più gradita ma certamente non facciamo attività politica di partito né tantomeno finanziamo partiti o cose, cause politiche dal momento che lavoriamo tutti gratuitamente e tutto quello che viene percepito viene rinvestito nella vita del circolo. Dopo il servizio andato in onda ieri sera nel nostro telegiornale è stata già contattata da diversi soci? Assolutamente, il vostro servizio è stato dirompente per quello che sono appunto i nostri soci che mi hanno chiamato, si sono sentiti indignati e offesi dalle dichiarazioni del signor De Sena pertanto come associazione stiamo valutando di procedere per vie legali.